Sono un artigiano metalmeccanico, ho cominciato come tornitore e dopo tanti anni di dipendente ho pensato di aprire un'azienda mia. L'azienda si occupa di lavorazioni contro terzi. Diciamo che il 60-70% della nostra produzione è dedicata al settore alimentare e packaging. Negli ultimi 4-5 anni ho investito molto sul benessere dei dipendenti. Ho cercato di rendere l'ambiente più confortevole possibile e agemoando i dipendenti sugli orari, sulla mensa. Per questo tre anni fa ho ricevuto un riconoscimento da Welfare Index. Come vedete è il primo anno come migliore artigiano in Italia per servizi welfare. Negli altri anni come servizio alla famiglia, visto che i miei dipendenti avevano investito il suo preno di produzione in maggior parte su asili, viaggi per studenti oppure visite mediche per i loro figli o corsi scolastici o altre cose. Quando ho cominciato con l'azienda, il confartigianato mi ha aiutato moltissimo, specialmente sul lato economico, dandomi dei finanziamenti e agevolazioni a tassi molto agevolati. Sapevo che potevo appoggiarmi al confartigianato con molta fiducia, visto che anche mio papà, nell'attività che aveva lui, era già socio da molti anni. Lui mi ha presentato l'associazione. So benissimo che il confartigianato negli ultimi anni ha lavorato benissimo. So che se ho dei dubbi o cerco informazioni, posso sempre affidarmi al confartigianato. Chiamo e loro hanno sempre una persona di riferimento. E quindi artigiani sempre sul pezzo.